Ciao a tutti e benvenuti o ben ritornati su Dazzebao. Oggi vorrei provare a rispondere a quella che forse è la domanda che più abbiamo ricevuto in questi giorni, cioè quella domanda che si chiede se è possibile immaginare in questo momento che la Cina possa attaccare Taiwan, possa svolgere attività militari verso Taiwan, ecco. Proviamo un po' a rispondere a questo e quindi anche a rispondere e a domandarci su quello che è il rapporto che esiste al momento tra la Cina e la Russia e a mio parere quello che mi sento di dire così all'impronta è che se oggi in questo momento la Cina attaccasse Taiwan, beh, questo sarebbe un gesto folle, sarebbe un gesto completamente irresponsabile e sconsiderato e un gesto che sostanzialmente andrebbe a portare ad un altro livello ben più ampio quello che è il conflitto che si sta svolgendo in questo momento alle porte dell'Europa. Perché, secondo la prospettiva cinese, questo conflitto è un conflitto che si sta svolgendo per la ridefinizione dei confini europei e se la Cina attaccasse Taiwan evidentemente questo conflitto assumerebbe una scala ben maggiore e ben più pericolosa. D'altra parte, noi sappiamo che gli Stati Uniti e la Nato non hanno intenzione di intervenire militarmente a difesa dell'Ucraina, ma allo stesso modo sappiamo con certezza che gli Stati Uniti hanno tutte le intenzioni del mondo di intervenire militarmente in difesa di Taiwan e non solo perché questo il Presidente Biden ce l'ha detto più volte, ce l'ha detto l'anno scorso, ce lo continuo a ripetere, ma anche perché tutte le azioni diplomatiche e militari che l'America ha svolto da quello che è stato il disarmo dell'Afghanistan poi beh, sono tutte azioni che sono dirette sostanzialmente per mantenere quella che è il controllo militare della zona dell'Indo-Pacifico e la zona dell'Indo-Pacifico e il controllo statunitense in quella regione come sappiamo ha come perno proprio l'isola di Taiwan. E parliamoci chiaramente, se la Cina intervenisse su Taiwan sarebbe un forte, un fortissimo sostegno che la Cina darebbe alla Russia, anzi sarebbe la vera prova di un'alleanza militare tra la Cina e la Russia sostanzialmente perché inevitabilmente andrebbe a spostare l'attenzione delle potenze occidentali dal fronte dell'Europa orientale e lo catapulterebbe immediatamente sull'isola di Taiwan evidentemente però al momento, secondo le dichiarazioni ufficiali cinesi, la Cina sta mantenendo una posizione di neutralità rispetto a ciò che sta accadendo. Se leggiamo quelle che sono le dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri cinesi è una sorta di opera di equilibrismo ad alto livello, cioè sostanzialmente la portavoce sta cercando di condannare ciò che la Russia sta facendo senza però condannare la Russia e quindi al momento la Cina ha definito questo attacco un attacco sì, ma non un'invasione e quindi qualcosa che può ancora essere risolto per vie diplomatiche perché sostanzialmente quello che la Cina vuole è questo la Cina vuole che questa escalation si concluda e si concluda per vie diplomatiche almeno questa è la posizione ufficiale che traspare ma è una posizione che tradisce anche sostanzialmente quelli che sono gli interessi che ha la Cina nel mondo e d'altra parte sappiamo che le relazioni tra Europa e Cina e le relazioni economiche finanziarie di ogni tipo tra Stati Uniti e Cina sono ben più forti e ben più importanti delle relazioni economiche che esistono tra la Russia e la Cina perché è vero la Cina compra il gas dalla Russia ma la quantità di gas che la Russia vende in Cina non è assolutamente paragonabile a quella che è la quantità di gas che la Russia vende a noi, cioè vende all'Europa e inoltre come sappiamo la Russia è un paese che ha un PIL assolutamente paragonabile a quella che è una nazione europea o due nazioni europee però di piccole dimensioni quindi è evidente che la Cina non può mettersi contro l'Europa e gli Stati Uniti a favore della Russia se non altro perché gli interessi strategici economici che esistono al momento legano ben più strettamente Cina all'Occidente rispetto alla Russia ma contemporaneamente la Cina non sta condannando direttamente la Russia se non altro perché recentemente è stato siglato un memorandum, un'intesa fresca di firma se non sbaglio l'8 febbraio o comunque appena prima delle Olimpiadi per la ridefinizione delle nuove relazioni tra Russia e Cina Xi Jinping l'8 febbraio ci ha messo la faccia nella firma di questo trattato e non vuole tradire questo trattato un trattato che prevede varie cose tra cui ad esempio prevede degli scambi economici legati all'acquisto di grano il grano che la Cina si impegna ad acquistare dalla Russia e questo accordo è stato duramente criticato in questi giorni è stato criticato e soprattutto dall'Australia dove è stato letto come un forte supporto che la Cina sta dando alla Russia acquistando il grano russo perché ovviamente in caso di sanzioni la Russia non potrebbe più esportarlo verso l'Europa e allora avere il mercato cinese a disposizione sarebbe un grande aiuto una chiave di lettura di questo tipo cioè una chiave di lettura che ci fa leggere le azioni della Cina come nascoste, sotterranee cioè ufficialmente dice una cosa ma ufficiosamente ne dice un'altra sono sicuramente chiavi di lettura possibili d'altra parte non dimentichiamoci che questo conflitto è scoppiato proprio alla fine delle Olimpiadi quindi anche questo ci fa capire una possibile accordo di intesa tra le due nazioni però allo stesso modo non dobbiamo dimenticarci che sì è vero, Xi Jinping ha firmato questo accordo con Mosca all'inizio delle Olimpiadi ma non dimentichiamoci che il mese prima il mese prima Xi Jinping, cioè a gennaio di quest'anno Xi Jinping aveva chiamato direttamente il premier ucraino congratulandosi con l'Ucraina per i 30 anni dell'indipendenza ucraina e per i 30 anni delle relazioni diplomatiche tra Cina e Ucraina relazioni diplomatiche che poi nel corso di questi 30 anni hanno portato la Cina a mettere un piede molto forte in Ucraina se pensiamo che l'Ucraina è sostanzialmente il paese europeo nel quale il progetto della nuova via della seta sempre della Cina in qualche modo si è affermato maggiormente per cui non possiamo dimenticarci di questo se vogliamo capire qual è la relazione in questo momento tra la Cina e la Russia cioè una Cina che si ha interessi verso la Russia ma soprattutto ha interessi verso le potenze alleate della Nato e aveva ed ha anche interessi verso l'Ucraina quindi io non penso che in questo momento nelle amministrazioni cinesi si stiano facendo i salti di gioia nel vedere quello che sta succedendo in Ucraina poi la domanda principale dalla quale siamo partiti riguarda la possibilità o meno che la Cina vada appunto ad intervenire su Taiwan ciò che la Cina al momento sta facendo è anche di negare ufficialmente qualsiasi possibile parallelo tra quella che è la situazione in Ucraina e quella che è la situazione a Taiwan d'altra parte sono due situazioni assolutamente imparagonabili non dimentichiamoci che la Russia è entrata in Ucraina sì ma è riuscita ad entrare in Ucraina perché è passata per la zona orientale dell'Ucraina cioè è passata per il Donbass una regione come sappiamo nella quale vive una popolazione filorussa una popolazione che si sente russa e che in tutti questi anni sostanzialmente ha cercato quello che era il riconoscimento ufficiale da parte della Russia un riconoscimento ufficiale che è arrivato sostanzialmente l'altro giorno per cui l'ingresso in Ucraina della Russia è stato festeggiato dalle popolazioni del Donbass e poi con base nel Donbass ha incominciato questa sorta di guerra lampo che stiamo guardando di fronte ai nostri occhi in questi giorni ecco questa è la situazione in Ucraina completamente diversa invece sarebbe la situazione a Taiwan se la Cina decidesse di attaccare per entrare a Taiwan ci vorrebbe uno sbarco anfibio un logorante sbarco anfibio e la Cina troverebbe non solo l'opposizione degli Stati Uniti come già abbiamo detto ma troverebbe anche l'opposizione della popolazione taiwanese che si sente sempre meno cinese per cui sarebbe una guerra di tutt'altro tipo una guerra che certamente non potremmo in alcun modo definire una guerra facile, una guerra lampo una cosa completamente diversa una cosa che quindi andrebbe a destabilizzare completamente gli equilibri dell'emisfero settentrionale di questo pianeta quindi di fatto una guerra mondiale e che la Cina sia interessata in questo momento a scatenare una causa di un conflitto mondiale qualcosa di impensabile soprattutto se riflettiamo su quella che è la propaganda cinese alla quale la Cina ci ha abituato negli ultimi anni cioè una Cina che ha voluto presentarsi come una nazione responsabile come una nazione a garanzia di scambi economici pacifici di equilibri pacifici nel mondo e cose di questo tipo se in questo momento attaccasse Taiwan getterebbe alle ortiche anni e anni di soft power di propaganda per cui la questione è abbastanza improbabile impensabile ma sarebbe una follina se accadesse e d'altra parte come abbiamo detto anche al di là delle motivazioni reali e materiali anche ufficialmente la Cina ha negato possibili paralleli tra la situazione in Ucraina e la situazione a Taiwan dicendo sostanzialmente che Taiwan è una questione interna cinese mentre l'Ucraina è una questione geopolitica che tradotto dal politichese cioè dal linguaggio dei funzionari ciò significa dire che la Cina non considera legittima non considera storicamente legittima un'annessione dell'Ucraina alla Russia mentre invece considera legittima l'annessione di Taiwan alla Cina sostanzialmente cioè vuol dire che la Cina non ha ricambiato il favore che Putin aveva fatto alla Cina quando poco tempo fa Putin aveva detto che per lui Taiwan appartiene alla Cina la Cina ha detto va bene grazie però sull'Ucraina dovete discutere perché è una questione geopolitica sulla quale non voglio immischiarmi questo quindi vuol dire questo è il messaggio ufficiale ecco che traspare da quelle che sono le dichiarazioni quindi il tentativo di scollegare qualsiasi possibile parallelo tra quella che è la situazione in Ucraina e quella che è la situazione a Taiwan un parallelo che invece Taiwan vuole fare Taiwan sta cercando di fare in un certo senso Taiwan ha dichiarato in qualche modo di sentirsi vicino a ciò che sta accadendo in Ucraina perché sente che la sua situazione è molto simile a quella che è la situazione in Ucraina e così la dirigenza taiwanese ha anche proposto di incrementare diciamo così quella che è la militarizzazione dell'isola in chiave difensiva rispetto alla Cina e queste politiche queste dichiarazioni sono state ricevute come una provocazione da parte della Cina e così abbiamo visto recentemente se non sbaglio ieri stesso nove jet sorvolare quello che è lo spazio di identificazione aerea di Taiwan e lo spazio di identificazione aerea di Taiwan non vuol dire che i jet cinesi sono andati sopra Taipei ma vuol dire che sono andati a sorvolare una zona che la Cina dice che è sua e che Taiwan dice che è sua cioè una zona intermedia all'interno dello stretto di Taiwan ecco ed è una cosa che sostanzialmente da anni capita un mese sì e un mese no oppure un mese sì e un mese anche dipende dai mesi dipende dalle relazioni dipende da tante cose dipende da molti fattori per cui al momento stiamo vedendo che sostanzialmente tra Cina e Taiwan ci sono i soliti cazzi che ci sono tra Cina e Taiwan questi sono i motivi motivi diciamo geopolitici ma forse si deve anche aggiungere un motivo interno per cui in questo momento è assolutamente impensabile che la Cina vada ad impegnarsi in un conflitto con Taiwan e il motivo è abbastanza semplice cioè ad ottobre in Cina ci sarà il congresso del partito comunista cinese al che noi diciamo pensando magari ai nostri partiti diciamo e chi se ne frega il congresso di un partito cosa sarà mai magari il congresso del PD non sarà niente di che ma il congresso del partito comunista cinese vuol dire il congresso di un partito che non solo gestisce lo Stato gestisce la politica ma gestisce anche l'amministrazione gestisce l'economia insomma gestisce quelli che sono i punti focali di tutta la società cinese e il momento del congresso è il momento in cui si vanno a ridefinire questi equilibri e ciò che accade normalmente ad ogni congresso è che i dirigenti cinesi scompaiono dai radar dai radar delle relazioni estere dai radar diciamo così da diplomazia estera perché sono completamente assorbiti e completamente impegnati in quello che è il congresso ora questo è ciò che accade normalmente il problema è che questo congresso è anche il congresso dei congressi perché dovrebbe essere il congresso che va a riconfermare per la prima volta dopo vari decenni il terzo mandato ad un presidente cioè appunto a Xi Jinping quindi un fatto storico un fatto inedito un fatto su cui la Cina ha lavorato anche parecchi anni ed è assolutamente impensabile che in un momento del genere Xi Jinping o qualunque altro dirigente vada anche ad impegnarsi a dichiarare guerra al mondo intero con una terza guerra mondiale insomma questi sono i motivi anche uno solo di questi motivi giustificherebbe l'impensabilità e la follia in questo momento di un attacco verso l'isola ma di motivi non ce ne è uno di motivi ce ne sono parecchi per cui al momento la questione sembra più che altro essere di fanta politica è triste è abbastanza triste è scoraggiante vedere come i media occidentali continuino ad insistere su un parallelo tra due questioni che non hanno assolutamente alcun tipo di parallelo ma d'altra parte i media occidentali ci hanno abituato negli ultimi anni a questa narrazione che continua a considerare la Cina un pericolo per il mondo ma al momento quello che stiamo vedendo è che le due più grandi potenze nucleari sono schierate alla porta dell'Europa cioè gli Stati Uniti da una parte e l'Unione Sovietica dall'altra in una situazione che è stata frutto di un escalation che non è incominciata ieri che non è incominciata una settimana o un mese fa ma che è incominciata otto anni fa una escalation dettata da delle politiche escellerate da entrambi i fronti perché se noi oggi vediamo i bombardamenti sulle basi militari dell'Ucraina i bombardamenti su Kiev non dobbiamo dimenticarci perché negli ultimi otto anni abbiamo fatto finta di non vedere ciò che stava accadendo nel Donbass cioè una guerra a bassa intensità che ha provocato 15.000 morti una guerra a bassa intensità che ha provocato delle situazioni di crisi umanitaria che a più riprese sono state denunciate dalle organizzazioni internazionali ma noi quella abbiamo fatto finta di non vederle così come abbiamo fatto finta di non vedere quello che stava accadendo nel 2014 cioè quando quei battaglioni che poi sarebbero entrati nella Guardia Nazionale Ucraina hanno bruciato vive le persone i contromanifestanti filorussi all'interno di Odessa anche questo abbiamo fatto finta di non vederlo così come nelle settimane nelle immediate settimane nelle prime settimane di febbraio ha fatto il giro del mondo la fotografia di una simpatica vecchietta che imbracciava un Kalashnikov che veniva addestrata in difesa dell'Ucraina un'immagine che è stata pubblicata anche sul Times e sui principali giornali occidentali un'immagine che però se viene sottoposta diciamo così ad un esame ulteriore beh scopriamo che il braccio che stava armando questa simpatica nonnina aveva in bella mostra il simbolo delle SS noi abbiamo fatto finta di non vedere tutto questo e così se oggi abbiamo un Vladimir Putin che con la sua propaganda ci sta parlando di demilitarizzazione dell'Ucraina di denazificazione dell'Ucraina beh non lo sta facendo per caso ma lo sta facendo perché noi in questi otto anni non solo abbiamo fatto finta di non vedere ma abbiamo anche apertamente sostenuto quello che stava accadendo in Ucraina cioè la preparazione di una polveriera e ditemi se questo è o non è un pericolo per il mondo è o non è